Un camper per portare gli aiuti alle mamme in difficoltà. Questa è la nuova iniziativa di Salvamamme Onlus che si occupa delle madri e dei loro bambini che vivono nel Lazio e si trovano in condizioni particolarmente disagiate. Il progetto Camper Bebé vuole essere non solo un semplice mezzo di trasporto di pannolini, latte in polvere, box, carrozzine e tutto ciò che è necessità per la crescita di un bambino, ma anche un supporto psicologico per le mamme in difficoltà che si rivolgono all'associazione. Infatti le consegne sono fatte da operatori formati dalla Onlus. La Regione e anche gli altri enti locali sostengono da molti anni l'associazione Salvamamme Salvabebè e noi intendiamo comunque riprendere questa tradizione. Personalmente io ho sempre seguito l'associazione e le sue iniziative. Lo scopo dell'associazione è evidente, aiutare le mamme, le famiglie e i bambini in situazioni di particolari difficoltà. E con l'aumento delle nuove povertà, delle vecchie e delle nuove povertà, evidentemente questo mondo, questo spirito di volontariato è assolutamente fondamentale e essenziale, però ritengo che si debba intrecciare con lo sforzo delle istituzioni. Non solo il Camper Salvamamme presenta al Sanit, il forum internazionale della salute in corso al Palazzo dei Congressi dell'Euro a Roma, ha istituito una nuova campagna dal titolo Stasera si sballa quando mamma e papà sono un pericolo per il bambino. Si tratta di analizzare i problemi e aiutare quei genitori, nella maggior parte dei casi molto giovani, che con i loro comportamenti a rischio, quali l'abuso di alcol e droghe, mettono in pericolo la vita dei loro bambini. Noi praticamente ci siamo resi conto che oggi sono i genitori quelli che fanno uso di sostanze dello sballo e quelle dell'esaltazione e quindi ovviamente questo crea dei problemi di sopravvivenza per i propri bambini, sopravvivenza di tipo psicologico e quindi emotivo, ma anche sopravvivenza fisica se poi vengono costretti a situazioni che mettono a rischio la loro incolumità. Il Salva Mamme non si propone di intervenire direttamente sul fenomeno, il Salva Mamme soprattutto si propone di facilitare l'accesso ai servizi, di essere un interlocutore. Quello che a noi interessa è che si avvii un percorso di responsabilizzazione da parte del genitore. Per conoscere ed aiutare l'associazione basta andare sul sito internet www.salvabebe.org www.salvabe.org